Un pellegrinaggio sulle orme di due parroci che hanno lasciato una traccia luminosa, per quanto scomoda, del loro servizio al Signore e al popolo di Dio. Così Papa Francesco ha definito la sua veloce visita iniziata a Bozzolo, nella bassa Mantovana, ma di Ocesi di Cremona, e che si chiuderà a Barbiana, tra le colline del Bugello, sulle tombe di due parroci, Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milano. Entrato nella chiesa di San Pietro a Bozzolo, il Papa si è raccolto a lungo in preghiera davanti al sepolcro di Don Mazzolari, scomparso nel 1959, e poi ha ascoltato il saluto del Vescovo di Cremona, Antonio Napoleone. Il 18 settembre, ha detto, si aprirà il processo diocesano per la beatificazione di Don Primo, definito parroco d'Italia, che è stato, ha sottolineato Francesco nel suo denso intervento, uno splendido frutto delle vostre comunità, sebbene non sia stato sempre compreso e apprezzato. Quindi il Papa si è soffermato sull'attualità del messaggio di Don Mazzolari, che nei suoi scritti della prima metà del Novecento toccava molti punti del Magistero di Francesco. Un parroco dalla voce chiara che non si è tenuto al riparo dal fiume della vita, dalla sofferenza della sua gente, che lo ha plasmato come pastore schietto ed esigente, anzitutto con se stesso. La sua profezia si realizzava nell'amare il proprio tempo, nel legarsi alla vita delle persone che incontrava nel cogliere ogni possibilità di annunciare la misericordia di Dio. Don Mazzolari non è stato uno che ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l'amore appassionato e la dedizione incondizionata. Don I individuava tre errori nei metodi di apostolato in parrocchia del suo tempo, il lasciar fare di chi si accontenta di criticare e si tira fuori dal mondo, l'attivismo separatista che rischia di generare una comunità cristiana elitaria e il soprannaturalismo disumanizzante, lo spiritualismo devozionale che non diventa carità. Perché Don Mazzolari, ha ricordato il Papa, è stato un precursore della Chiesa in uscita, che si occupa dei bisogni umani, un parroco dei lontani che li ha sempre amati e cercati, con uno sguardo misericordioso. Abbiamo del buonsenso, diceva Don Primo e ha ripetuto due volte Francesco, non dobbiamo massacrare le spalle della povera gente. E ha concluso incoraggiando sacerdoti e vescovi, sull'esempio di questo parroco innamorato di Gesù, ad ascoltare il mondo, chi vive opere in esso per farvi carico di ogni domanda di senso e di speranza, senza temere di attraversare deserti e zone d'ombra. Così possiamo diventare Chiesa povera per e con i poveri, la Chiesa di Gesù. La coscienza è a posto, ma non ha nulla di cristiano, perché porta a tirarsi fuori con spirito di giudizio.